La mattina la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Marcello Pittella, presentata durante i lavori consigliari di ieri dai consiglieri Giovanni Perrino, Gianni Leggeri del Movimento 5 Stelle, Michele Napoli, Paolo Castelluccio, PDL Forza Italia e Gianni Rosa, LBFD. Con il documento i firmatari hanno posto l'attenzione sull'assenza di azioni da parte dell'istituzione regionale, volte al rigoroso rispetto dei principi di legalità e trasparenza secondo i criteri di efficacia e di efficienza in tema di tutela ambientale e salvaguardia della salute umana. Per Rosa le ultime vicende hanno dimostrato assenza di programmazione e controllo e soprattutto mancato rispetto del Presidente Pittella della fiducia dei cittadini, da qui la richiesta delle sue dimissioni. Una responsabilità precisa quella della Regione in tema di controlli ambientali, Pittella ha sottolineato Leggeri e non può più continuare a nascondersi dietro un dito. Con l'ambiente esordito Napoli non si scherza, tantomeno con la salute dei cittadini. Le leggi in materia ci sono, occorre solo che vengano scrupolosamente applicate. Così facendo, affermato Castelluccio, si farà chiarezza e si tenterà di parare i contraccolpi che inevitabilmente si registreranno nei settori dell'economia e del turismo.